Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo degli occhiali Rudy Project modello Caleon. Un occhiale da sole veramente super prestazionale, 100% made in Italy, di cui adesso vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa. Inizio subito dalla lente di questi Caleon perché è disponibile in due versioni. Io in particolare ho provato la RB Optics che è una classica lente specchiata categoria 3. Una lente con cui mi sono trovato veramente molto molto bene, l'ho utilizzata praticamente un po' in tutte le condizioni. Una lente che dal suo punto di vista protegge tanto dal vento, vi assicuro avendo questa curvatura che Rudy chiama 5.2 è veramente molto protettiva dal vento. Utilizzata anche in delle giornate in cui magari non c'era sole pieno ma comunque una forte luminosità mi è piaciuta tanto perché protegge veramente bene. E tutto quello che poi è la parte proprio di materiale della lente devo dire che è fatta bene perché nonostante io l'avevo utilizzata praticamente per una 35-40 uscite negli ultimi due mesi, devo dire che è ancora perfetta e i graffi sono pochissimi. Ma non solo perché da questo punto di vista poi la lente si può anche togliere. C'è un pratico sistema in cui bisogna banalmente esbitare una piccola vitina laterale e si può andare a togliere la lente e nel caso sostituire. Quindi da questo punto di vista sicuramente un occhiale è pensato molto molto bene. Altro aspetto che mi è piaciuto è la sua ventilazione perché questo occhiale ha una ventilazione particolare composta da tre prese d'aria poste nelle parti più esterne dell'occhiale e devo dire che anche qua lavora veramente bene. Mi è capitato di correre negli scorsi mesi in giornate veramente tanto tanto umide, soprattutto magari in punti molto umidi e loro non si sono appannati. Quindi da questo punto di vista sicuramente è un occhiale fatto bene. L'unica cosa mi raccomando per evitare che si appannano dovrete correre, dovrete fare in modo che entri aria che faccia uscire l'aria più calda. Se restate fermi in quel caso gli capita che si appanna, ma perché comunque sono degli occhiali pensati per quando si sta in movimento. Altro aspetto positivo è tutta la parte di plastica con cui è fatto il frame di questo occhiale. Perché gran parte di questa plastica è riciclata. Quindi abbiamo un prodotto che va a pensare molto anche all'ambiente e in generale è una plastica fatta molto bene e pensate che l'occhiale pesa solo 36 grammi. Nonostante sia così grosso, è veramente molto leggero, lo si può portare anche per tantissime ore senza sentirne il peso sulla faccia. Quindi da questo punto di vista è veramente un occhiale super super leggero. Per quanto riguarda invece come sta addosso, devo dire che sta molto bene perché anche utilizzato in escursioni, trail running, dove si andava su terreno sconnesso, dove quindi c'erano tantissime sollecitazioni, l'occhiale stava molto fermo. Questo grazie a un nasello regolabile, completamente regolabile, e alla possibilità di regolare anche la parte finale delle bacchette. In questo modo, con queste due semplici regolazioni, praticamente l'occhiale non cadrà più. Quindi da questo punto di vista è un occhiale veramente molto molto fermo. Per quanto riguarda invece la dotazione, diciamo che non troviamo tantissimo in confezione. Troviamo semplicemente un panno che lo fa anche da custodia quando non lo utilizziamo e possiamo utilizzarlo anche per pulire gli occhiali. Quindi c'è una dotazione abbastanza basilare. Infine arriviamo al prezzo di questi Caleon perché Rudy Project li vende a 240 euro, online li si trova a qualcosa meno. È un prezzo sicuramente alto per un occhiale, però c'è anche da dire che è un occhiale fatto veramente bene, estremamente performante. Un occhiale che potremo utilizzare per tantissime discipline, perché possiamo utilizzarlo dal trekking, al trail running, alla bici, al mountain bike e via dicendo. Quindi veramente un occhiale tutto fare alla fine. Un occhiale che, come dicevo, ha degli ottimi materiali e poi è 100% made in Italy. Naturalmente in questo caso avere un occhiale completamente fatto in Italia è secondo me un plus anche per tutto quello che riguarda poi magari la garanzia post vendita. E detto ciao ragazzi, una speranza di essere stato esauramente sostitivo anche per questo video. Vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!